Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Crash Inc. Matrice Oggi inizieremo questa nuova world draw, oppure giochiamoci insieme praticamente A Zero Escape Dilemma Zero Escape è una saga uscita originariamente per Nintendo DS Portata poi per 3DS e finalmente uscita anche per il nostro Amato PC Scusate se l'audio è un pochino basso, purtroppo si è rotto il microfono e sto usando un altro Di riserva un pochino meno performante Quindi direi di fare un nuovo gioco e goderci l'introduzione Ehi, open up! Chi potrebbe fare questo? Sì, cosa c'è con te? C'è qualcuno l'unico un errore? Un errore? Talvez Diana's Questo non è il momento per i giocati Devo pensare, questo cammino non può riuscire, può? È così scopo Non voglio che per me Where the hell did this thing come from? Forget it, shouldn't we be trying to get out of here? Impossible, this is a confinement room The bar is only open from the other side Nothing to do but ask whoever did this to let us out The mastermind's right there That kid locked us up So he was the one who put these on us? It wasn't me It talks Life is a move Don't you think There are moments when a single snail can make a world go extinct Make... go extinct? What the hell are you going on about? Who are you? I'm sure you'll determine that eventually Why are you doing this? I require all of you to take part in a game A game? With the fate of you, me, and the human race, and the balance Fuck that Let's get started Beneath my foot, there's a coin One side of it is red, while the other side is blue Which side of the coin is facing up? Make a guess However, you only get one chance Do we get something? Did we get it right? You're afraid I'm not I promise that I will release all of you And what if we're wrong? You won't lose You will have to stay in the game until at least six of you are dead What? Let's go with blue It's red Right, red It's gotta be red 50-50 chance The odds for each are the same Then we should vote Wait I can't believe you guys Kane's right You're just going to do what he says? What do you think, Carlos? You are the leader of this group I will take your decision as everyone's final answer What are you talking about? I'll let Carlos choose Pick red It's blue So what do you say, Carlos? I No, Carlos! Don't answer him! Time to choose, Carlos You are that solitary snail The fate of the world Rest on your decision And now? Rosso Blue Rosso Blue Eh Che cazzo Ce n'è assurda sta cosa C'è qualche cosa, no? Eh vabbè ragazzi E vada a casaccio Rosso-blu 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 Va, vediamo che succede Rosso-blu Rosso-blu Hosso-blu Rosso-blu So, uh, who was it who said it was red again? Hmm Well done Carlos! Sei un tipo di clairvoyante? È solo un'esplorazione. Ho avuto una possibilità 50%. Non è molto difficile per capire. Hey, guarda un po' un po'! Ok, certo, hai avuto con i ragazzi. Ma cosa se hai fatto fatto? Cosa importa? Tutto tutto funziona bene. Quindi, ti fai fare bene per il nostro negozio? C'è un'esplorazione. Sono un'esplorazione. Non è un'esplorazione. Ho promisato a te liberare, e non ci farò. Ah, ma prima di tutto, ho scusato, che tutti dovrebbero vedere. Sì! Quando ti fai dormire, ti fai perdere qualche cosa che succederà. Perché non ci fai perdere? Hmm, ho scusato. È un'esplorazione. E' straniante questo primo pezzo, cioè vi è finito? Non credo, vediamo un attimino cosa succede, poi ci fermiamo un attimo e facciamo le nostre considerazioni. Hold on, why are we outside? I have no clue. When I woke up, we were on the ground over there. Huh? What is it? Didn't we all have something attached to our left wrists? Hmm, I suppose we might have. Coin. Huh? Nothing, just saw an image of a coin flash in my mind. It was flipped and falling. Come to think of it. Damn, I can't remember anything. Me neither. Neither can I. It somehow feels like... Like I'm in a bet with someone, but... Someone? Kind of bet. We all forgot what happened? Hey, I... Could I ask all of you something? Who is this kid? E' già, chi è questo ragazzuolo con la... Con sto bulla in testa da palombaro? Ah, quindi abbiamo fatto scelta blu? Abbiamo finito il gioco? Però non abbiamo scoperto nulla, praticamente. Cioè... Devo scegliere il rosso. Quindi abbiamo avuto il finale 1. Che praticamente non sappiamo che è successo. Per poterlo scoprire, presumo, dobbiamo scegliere l'altra moneta adesso. Come intanto salviamo? Quindi... Quindi... Ah, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 finali. 9 minuti. Allora, per continuare la storia, ma dobbiamo scegliere il team. C team, Q team, dream team. E il DT team. Leader, il bambino, io penso che sono tre storie completamente diverse. Abbiamo il leader carismatico. Abbiamo il bambino con la cosa da palombaro. E la fanciulla con gli occhioni azzurri. E quindi... Ehm... Mo' quindi... Ehm... Dobbiamo scegliere... Quindi il D team, abbiamo questa storia. Ehm... Dobbiamo scoprire tutte queste cose. Va bene di salutarci con questo primo... Questo primo inizio e poi continuare con, non lo so, rosso, blu, verde. Vedremo. Grazie a tutti ragazzi. Mi ha lasciato un bel like. Se vi è piaciuto il video, seguitemi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.